Dei marchi, 8 a 7, Koi, perfetta, esco per Dennis, va a mettere giù il pallone, il punto numero 9, attenzione però c'è un po' di indecisione. Qui abbiamo la micella con Montagnani che stanno comunque dichiaratamente, è molto fuori, ma veramente tanto fuori, ma noi non possiamo dare nessun tipo di segnale perché sennò poi dopo ci arrivano qui, saremo impassibili, la palla è completamente fuori dall'asta, purtroppo il segnaline di riferimento non dà nessun tipo di aiuto, vedete Carmice e telespettatori, quasi mezzo metro tirata col brazzo destro addirittura.